Ciao ragazzi e ragazze, no ragazzi in generale, niente, so che magari aveva te domandato a Michele qualche video, io vi voglio mandare a tutti i suoi amici, quelli che magari si sono interessati in me, mandarle un bacio grande, sono a Napoli e quindi mi è fatto molto piacere passare qua, vi mando un bacione a tutti e avete una città bellissima, vi voglio bene, ciao.